Ehi, c'è una nuova taglia in palio. Ne vale la pena? Dobbiamo pagare le bollette, ricordi. E dove lo troviamo, lo scemo di turno? Ci pensiamo noi a catturare. Da soli. Te lo scordi. Non è da quella parte. Ehi! L'ho trovato. Non è lui la nostra preda. L'ho trovato io. Però neanche lui è quello giusto. Ma porca! Spike! Che c'è? Siamo qui per lavorare. Su serio? Prima i noodles. Ciao, Spike. Sto avvenendo a prenderti. Spike! Vai! Dobbiamo andare. Il ricercato è da questa parte. No, ma ecco il cattivo! Ehi! Lo stavo mangiando. Ehi, Spike! Ci dai una mano? Sei morto, Cowboy! Lo ridò, Cowboy schifoso! Ma cosa avete nel cervello? Se gli sparate in faccia, niente ricompensa. È stata colpa sua. Ma per favore! Io gli ho sparato tre tiri puliti alle gambe. Anche io ho mirato alle gambe. Io non sbaglio mai. Non sbagli mai? Mai! Hai mirato alla faccia. No, sei stato tu, è evidente. Per questo non abbiamo faccia. No, sei stato tu, è evidente. Grazie a tutti